Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In primo piano l'emergenza sanitaria. In queste ore il governatore della campagna Vincenzo De Luca ha chiesto al governo il lockdown totale. I dati sui contagi sono preoccupanti, sono inefficaci, secondo De Luca provvedimenti parziali. Intanto si registra il primo decesso a Torre del Greco dopo il lockdown. Si tratta di un medico 61enne noto in città e anche diacono della chiesa di Sant'Antonio Brancaccio. Da stasera scatta il coprifuoco alle 23 fino alle 5 del mattino come disposto dall'ordinanza regionale. È un provvedimento che ha scatenato il malcontento di ristoratori e proprietari di locali notturni che già ieri hanno manifestato a Napoli. Manifestazioni di protesta in programma questa sera alle 22 a Piazza Santa Croce a Torre del Greco. Facciamo anche il punto dei contagi nel Vesuviano. Spazio poi alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che a Castellammare ha sequestrato armi e munizioni. Parliamo di politiche sociali. Parte in questi giorni a Torre del Greco il progetto ITIA. Si tratta di interventi di inclusione sociale e lotta al disagio. In chiusura l'evento dell'altro pomeriggio a stecca incubatore di imprese. Nuove opportunità per le start-up del territorio. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Leggero calo di positivi al Covid-19 in Campania. Nella giornata di ieri sono stati registrati 1.541 casi su un totale di 12.000 tamponi effettuati. Secondo quanto rende noto l'unità di crisi della regione Campania, i sintomatici sono 88, mentre gli asintomatici 1.453. Nonostante la leggera flessione verso il basso della curva dei contagi, la situazione resta allarmante. Si contano 94 persone in terapia intensiva con gli ospedali che cominciano a sovraffollarsi. Si conferma alta la mortalità con altri sei pazienti deceduti tra il 20 e il 21 ottobre, che si aggiungono alle 81 vittime contate dal 1 ottobre. In questo preoccupante contesto, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un'ordinanza che obbliga il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo. Decisione che ristoratori e proprietari di locali notturni non hanno del tutto digerito. Un provvedimento che danneggia migliaia di attività ristorative, senza però risolvere il problema dell'aumento dei contagi, commenta così Lorenzo Ferrari, amministratore delegato di Ristoratore Top, agenzia che rappresenta oltre 10.000 ristoratori in tutta Italia. Sembra che si voglia chiudere il recinto quando i buoi sono già scappati. A tal proposito, la notte scorsa a Napoli, centinaia di proprietari di piccole e medie imprese si sono ritrovati all'esterno del Palazzo della Regione a Santa Lucia con fiaccole, candele e striscioni. Una forte protesta contro un coprifuoco che a lungo inciderà sulle attività notturne del territorio. Una misura che provocarebbe ulteriore diminuzione nel fatturato che finora ha registrato un calo del 50%, hanno affermato i rappresentanti della categoria. Un crollo che coinvolgerebbe decine di piccole e medie imprese già messe in ginocchio dallo scorso lockdown. Cresce il malcontento a Torre del Greco. Dopo l'introduzione del corpifuoco a partire dalle 23 con la chiusura dei locali e le limitazioni alla mobilità, i commercianti del territorio hanno fatto sentire la loro voce. Già ieri un gruppo di cittadini si è ritrovato a Napoli, alla sede della regione Campania, per una manifestazione rivendicando l'assenza di tutele per lavoratori e dipendenti. Nel corso della serata un gruppo di protestanti si è riversato sul lungomare bloccando la viabilità, momenti di tensione anche con le forze dell'ordine. Questo pomeriggio i ristoratori di Torre del Greco si incontreranno a Palazzo Santa Lucia di Napoli per manifestare. Una decisione che danneggerà ancora di più le attività già sul loro del baratro dopo il lockdown. Intanto questa sera alle 22 in piazza Santa Croce di Torre del Greco ci sarà una protesta promossa sui social dal gruppo Insorgenza Civile, un flash mob in merito alle ultime decisioni prese dal governo ma soprattutto dalla regione. Per loro il vero problema è il depotenziamento della sanità pubblica, avvenuto negli ultimi anni con la chiusura di tanti presidi ospedali e ieri territoriali e la soluzione non è togliere libertà personale e la popolazione, concludono i cittadini. Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 nella città di Torre del Greco. Nella giornata di ieri certificate altre 9 positività, di cui 8 in forma asintomatica e 1 ospedalizzata. 3 invece i nuovi casi di guarigione, in totale sono 134 i cittadini positivi. A Torre annunziata 3 i nuovi positivi e 2 le guarigioni, in totale sono 59 i cittadini attualmente positivi, 56 posti in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso il Covid Center della regione. A Portici, intanto, sono giunti gli esiti dei tamponi ripetuti agli anziani e agli operatori della casa di riposo Pio XII. Risultati positivi altri 10, al momento tutti in forma asintomatica. Gli anziani risultano in condizioni cliniche stabili. A Dercolano registrati 29 positivi e 5 guariti. Allo stato attuale sono quindi 161 i cittadini positivi al Covid-19. Castellammare, contagi ancora in crescita. 20 nuovi positivi, 169 totali. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli è sottoposto a sequestro in un'area montosa del Comune di Lettere, già utilizzato in passato per l'occultamento di armi, 50 munizioni e un caricatore. In particolare, i finanziari della Compagnia di Castellammare e di Stabia, nel corso di una perlustrazione di un fondo agricolo coltivato e delimitato da un muro, hanno individuato un'intercapedina all'interno della quale erano nascoste delle cartucce. Nello specifico, le 50 munizioni e il caricatore, perfettamente lubrificato e di recente fabbricazione, sono stati scoperti in un barattolo di plastica nascosta all'interno di una nicchia ricavata nel muro in pietra. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario del fondo e verificare eventuali collegamenti con fatti di sangue e intimidazioni. L'operazione di servizio si inquadra nell'ambito della costante attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nelle aree più sensibili a maggiore densità criminale e riflette le recenti indicazioni del prefetto di Napoli, Marco Valentini, in merito all'esigenza di maggior controllo della circolazione delle armi nel napoletano. Creare interventi di inclusione e contrastare il disagio sono gli obiettivi del progetto ITIA promosso in collaborazione con l'ambito territoriale numero 31 del Comune di Torre del Greco. Un piano di azioni della durata di 36 mesi finanziato dalla Regione Campania e dal Fondo Sociale Europeo con il coinvolgimento di diversi partner territoriali. Il progetto ITIA è un progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso l'utilizzo di risorse proprie della Regione Campania nonché del Fondo Sociale Europeo che ha visto insieme l'ambito territoriale N31 e altri partner che sono la Cooperativa Sociale Atena e l'ente di formazione professionale DEAFORM con il quale hanno presentato questo intervento che appunto si chiama Interventi di Inclusione e Lotto al Disagio. Nella lunga intervista negli studi di TVCity dottor Renato Grimaldi, direttore e coordinatore del progetto ha illustrato le azioni che verranno realizzate e le finalità. Un progetto lungo che avrà una durata di 36 mesi prevede tre azioni l'azione A che è legata soprattutto ai servizi alla persona di cui l'ente titolare e gestore è rappresentato dalla Cooperativa Atena abbiamo l'azione B e l'azione C azione B con un percorso di formazione professionale che è stato frutto di un'analisi del fabbisogno territoriale fatto dall'ambito N31 e dove si è ritenuta necessaria formare questa figura che è appunto rappresentata dall'operatore socio-sanitario. In più, oltre all'intervento di formazione ci sarà l'acquisizione e la possibilità di acquisire delle competenze nel settore linguistico e quello informatico ed infine l'azione C che invece prevederà dei tiroscini formativi attraverso il coinvolgimento di quelle che sono aziende e imprese presenti sul territorio cittadino. La partenza delle attività ha subito nei mesi scorsi un rallentamento a causa della pandemia ma ora il progetto è pronto a diventare operativo. Nuove opportunità per le start-up del territorio E' questo lo spirito con cui lavora NaStartup un acceleratore che mira ad essere una vera e propria palestra in cui le nuove attività possano crescere creare contatti e trovare supporto valido per i propri progetti. La missione di NaStartup ha fatto tappa alla stecca. Qual è lo spirito di NaStartup? NaStartup è un progetto stupendo perché ne faccio parte perché nasce tutto dal bus quindi non ci sono appunto finanziamenti esterni è tutto fatto dalla community. Cosa facciamo? Noi ogni mese prima con l'offline adesso purtroppo con l'online a causa dell'hackdown mettiamo in connessione delle persone che hanno progetti innovativi le mettiamo in connessione attraverso insomma una rete una rete di NaStartup che adesso conta addirittura 7.000 membri una start-up è al settimo anno quindi è un evento storico mettiamo in connessione in questa rete esperti quindi finanziatori esperti di marketing esperti di design esperti di app che appunto supportano i progetti innovativi e li aiutano a sbocciare oppure proprio nel termine tecnico accelerare le start-up ci presentano i loro progetti e tramite la nostra community le acceleriamo la start-up che inoltre condividerà di più il progetto online dopo l'evento vincerà un premio e il premio è l'officina delle start-up in che cosa consiste? una serie di esperti aiuteranno la start-up laddove ne ha bisogno quindi ci saranno esperti per quanto riguarda la finanza esperti per quanto riguarda la parte tech insomma abbiamo una vasta gamma di collaboratori che partecipano con noi e cerchiamo di dare il meglio alle start-up per farle diventare una realtà appetibile un progetto tutto al femminile dicevi siamo al momento tre advisor donne sono io Barbara Feluca Brigida e Federica e al momento ci stiamo occupando noi di interagire con le start-up e di creare le connessioni questo acceleratore e quindi rappresenta appieno l'idea di un incubatore come la Sticca noi siamo felicissimi di ospitare questo appuntamento della start-up play perché incarna perfettamente quello che è il nostro modello organizzativo e operativo è un contenitore di professionalità di opportunità di sviluppo per le start-up e quindi per noi rappresenta la possibilità di implementare un altro nodo della nostra rete per cui da una parte siamo felici di essere partner e di ospitare l'evento dall'altro siamo felici di far conoscere la nostra struttura anche alla platea di una start-up grazie a tutti per la cortese attenzione vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatibusiti.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto buon fine settimana e arrivederci a lunedì con una nuova edizione aggiornata del nostro TG www.mesmerism.info www.mesmerism.info